un efferrato saluto a tutti voi cari miei questa è la zona oscura io sono marco e ciò che sto per raccontarvi non è né più né meno di ciò che vi racconto ogni settimana da un paio di anni a questa parte un caso di true crime scelto appositamente per voi prima di addentrarci nei meandri della sadica follia umana vi chiedo cortesemente di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto piazzare un bel like preventivo e sedervi comodi con un bel bicchierino di grappa un amaro di fianco a voi lo so mi spiace ma io non sono un tipo da tazza di tè la storia di oggi ripercorre un po il classico canovaccio di lui lei e l'altra dove però l'altra è l'avvocato di lui mentre lei è la ex di lui e lui è sostanzialmente una gran testa di m***a ma andiamo per gradi siamo in oklahoma nello specifico a begs una città talmente piccola che non sembra nemmeno di essere negli stati uniti appena 1300 persone vivono da quelle parti ma c'è una scuola ci sono i servizi insomma non manca il necessario per vivere una vita tranquilla lontana dal caos delle grandi metropoli ma sappiamo bene che nessun posto neppure il più insospettabile è mai veramente tranquillo poco ad est di begs c'è la statale 75 e basta percorrerne alcuni chilometri per arrivare nei pressi di una casa di miglia dimensioni circondata dal verde e dalla natura ed è proprio qui in questa apparentemente tranquilla dimora tra i boschi che il 7 settembre del 2019 un uomo di passaggio notò qualcosa di strano nei suoi paraggi e vide che la porta era spalancata dopo essersi preso un po di tempo per decidere se farsi gli affari suoi o dare un'occhiata si avvicinò la tenuta rendendosi conto che la porta più che spalancata era stata sfondata bussò più volte ma nessuno rispose così chiamò la polizia gli agenti accorsero e una volta giunti sul posto penetrarono all'interno della casa dove oltre a un enorme disordine trovarono anche dell'altro non uno ma ben tre cadaveri appartenevano a jack chandler 65 anni sua moglie evelyn chandler di 69 e dalla loro figlia 43 anni tiffany hiker tutti e tre erano stati uccisi con colpi d'arma da fuoco i chandler non erano una nuova conoscenza della polizia locale che altre volte si era recata in visita presso quella casa ma non perché non fossero brave persone anzi erano stati loro a chiamare gli agenti perché in passato erano accaduti dei fatti non propriamente piacevoli circa otto mesi prima del triplice omicidio i chandler contattarono la polizia perché avevano individuato qualcosa di strano sotto il portico di casa si trattava di polvere bianca e ovviamente il pensiero andò a qualcosa che nessuno di noi vorrebbe trovare davanti alla propria casa a meno che ovviamente non si abbiano particolari vizi in realtà la polizia dopo aver portato in laboratorio e fatto analizzare la polvere venne informata che si trattava di qualcosa di molto più innocuo zucchero a velo ma era stato impacchettato in modo da sembrare droga forse si era trattato di uno scherzo forse di qualcos'altro probabilmente qualcuno voleva intimidire la famiglia chandler o mandare dei segnali particolari magari proprio la stessa tiffany e visto il brutale omicidio dei tre componenti della famiglia avvenuto pochi mesi dopo non si potesse collegare i due eventi ma chi è che ce l'aveva tanto con loro chi sarebbe arrivato a spingersi fino a quel punto ed è qui che dobbiamo introdurre barry titus barry lavorava nel settore delle costruzioni non si sa di preciso cosa facesse ma è probabile che fosse per lo più un manovratore di gru nato in oklahoma e cresciuto poco lontano da oklahoma city aveva studiato l'università di everglandis salvo poi tornare nella città natale dedicarsi a diverse attività tra le quali anche la gestione di una ditta che si occupava di riparazioni auto fin qui nulla di strano se non fosse che nell'agosto del 2017 barry titus conobbe su tinder tiffany hiker i due si frequentarono per un po ma già dopo un mese barry era riuscito a riempire di botte la povera tiffany in diverse circostanze oltre ad introdurla all'uso di matt ed altre droghe dopo tre mesi tiffany si ritrovò in ospedale con alcune costole rotte una lacerazione al fegato e ferite su tutto il corpo purtroppo la donna si rifiutò sempre di denunciarlo nonostante fosse stata invitata dalla stessa polizia a farlo visto che la situazione era piuttosto evidente addirittura una volta successe anche in presenza di un testimone ma niente da fare le cose proseguirono così fino al maggio del 2018 quando finalmente dopo essere stata in terapia ed essersi rimessa in sesto tiffany tagliò definitivamente i rapporti con barry nell'ottobre del 2018 quindi qualche mese dopo che si erano definitivamente lasciati tiffany decise anche di denunciarlo per tutte le cose che le aveva fatto nel corso dei lunghi mesi nei quali erano stati insieme barry titus fu quindi arrestato e poi rilasciato in attesa di processo con l'accusa di percosse e maltrattamenti e come ogni persona arrestata incriminata di diversi reati l'uomo o presunto tale aveva bisogno di un avvocato che accettasse il complicatissimo compito di difenderlo di fronte alla legge e lo trovò poco fuori Oklahoma City uno studio legale di nome Arrows Law la cui proprietaria e principale esponente era tale Keegan Arrows. Barry le raccontò di tutte le nefandezze delle quali era accusato e la donna dovette trovarle particolarmente intriganti in quanto non si limitò ad accettarne il caso ma ben presto divenne anche la sua amante. D'altronde chi potrebbe resistere al fascino del picchiatore seriale. Keegan Arrows era nata nel Texas, Rollet per la precisione. Prima di studiare leggi in Oklahoma aveva frequentato corsi di ingegneria elettrica e marketing. La sua carriera nell'ambito legale era stata relativamente rapida. Da apprendista impiegata ad assistente dei difensori d'ufficio fino a divenire proprietaria di Arrows Law. La sua società che dal 2014 si occupava di crimini in ambito familiare e finalmente nell'ottombre del 2018, a quanto pareva, aveva trovato anche l'amore della sua vita in cui il cliente è arrivato a bussare la sua porta in quello stesso anno. Ovviamente i due dovettero tenere la loro relazione segreta in quanto la legge statunitense parla chiaro. Un avvocato non può avere relazioni di tipo sessuale con un cliente a meno che quella stessa relazione non sia iniziata prima nel rapporto professionale. In pratica una donna potrebbe difendere il suo compagno ma non può trasformare un cliente nel suo compagno. Quindi la sagace Keegan per difendere Barry mise a rischio la sua carriera ma evidentemente per lei doveva valerne la pena? E questo è soltanto l'inizio. Facciamo quindi un salto temporale fino a giugno 2019, un paio di mesi prima che i corpi di Tiffany Eicher e dei suoi genitori venissero ritrovati nella loro abitazione. In quel media Tiffany ottenne un ordine restrittivo nei confronti di Barry per tutte le violenze subite in passato. L'avvocato Keegan Arrows si diede molto da fare per difendere il suo assistito nonché amante, forse anche marito visto che si volciferà che i due si fossero sposati in gran segreto. Comunque Keegan assunse un investigatore privato per seguire Tiffany in giro e scoprire magari qualcosa che potesse aiutare lei e il suo assistito nella causa in corso. Arriviamo così a settembre del 2019 con i tre omicidi e con le indagini della polizia che ovviamente iniziarono subito dopo il ritrovamento dei cadaveri. Tutti i vicini parlarono bene dei coniugi Chandler e della loro figlia, persone tranquille che non avevano mai dato alcun problema. La prima cosa che saltò all'occhio degli inquirenti fu che non vi era corrente all'interno dell'abitazione. Vi erano però delle telecamere a circuito chiuso e una volta che la polizia poteva accedere ai contenuti trovò qualcosa di molto interessante. Il giorno dell'omicidio, alle tre di notte, un'auto di colore scuro era arrivata presso la residenza dei Chandler ed aveva parcheggiato di fronte alla casa. Ne erano scese due persone, una decisamente più alta dell'altra. I due avevano tagliato le linee elettriche e del telefono, poi avevano fatto irruzione all'interno della casa. Ciò che accadde dentro non fu ovviamente ripreso, ma in base alle ricostruzioni fu Jack Chandler il primo ad essere ucciso, poi sua moglie Evelyn che si era nascosta in un armadio. La Tiffany Eicher, il presumibile principale obiettivo della spedizione, era andata peggio. L'avevano torturata per diversi minuti prima di uccidere anche lei. Poi gli assassini erano risaliti in auto e se erano andati da lì, lasciando sangue e morte dietro di loro. Negli archivi della polizia, come detto, quella abitazione e quella famiglia erano già presenti per via della denuncia risalente ad otto mesi prima quando della polvere bianca era stata ritrovata sotto il portico di casa. Quella storia venne ovviamente riaperta in quanto il collegamento con gli omicidi del 7 settembre era abbastanza semplice e sebbene potesse trattarsi di una combinazione, gli inquirenti erano convinti che i due fatti avessero la stessa matrice. E spuntò un nome, José Ribey. Si presentò spontaneamente alla polizia, affermando di essere stato lui a posizionare la finta droga davanti a casa Chandler. Gli lasciò dichiarazioni spontanee perché lui era effettivamente nei guai per questioni di droga, vera questa volta, e sperava che fornendo queste informazioni la sua situazione si sarebbe potuta alleggerire. Ovviamente la notizia più interessante che gli inquirenti ricevettero fu il nome di chi gli aveva detto di lasciare quella polvere bianca in quel preciso luogo, visto che José Ribey non conosceva minimamente Chandler né Tiffany Eichor. Indovinate un po', era stato il suo avvocato, o meglio, avvocata, tale Keegan Harris, che abbiamo avuto modo di conoscere qualche minuto fa. Passarono sei giorni dagli omicidi e la donna fu arrestata con l'accusa di intimidazione di testimoni. Ricordiamo infatti che Tiffany Eichor era in causa con l'ex compagno per le percosse subite e quello della finta droga era stato chiaramente un segnale per lei. La cauzione fu fissata in un milione di dollari, ma questa procedura riguardava esclusivamente la storia della polvere bianca. A Keegan Harris, per il momento, non vennero fatti addebiti in relazione al triplice omicidio. Nello stesso tempo, la polizia ricevette una chiamata dal fratello di Keegan, che viveva in Texas. L'uomo sostenne che era in possesso di quella che lui credeva fosse stata l'arma usata per uccidere Tiffany e i suoi genitori, una R-15 di proprietà di Barry Titus e Keegan Harris. L'uomo non disse come ne era entrato in possesso, se loro stessi glielo avessero consegnato o lo avesse ottenuto in altro modo. Fatto sta che consegnò l'arma alla polizia e le analisi su di essa confermarono una piena compatibilità con i bossoli ritrovati in casa Chandler quella notte. In aggiunta a questo, dopo l'arresto di Keegan Harris vennero rivalutate anche le immagini delle telecamere a circuito chiuso, alle quali ho accennato in precedenza. Vi avevo detto di un'auto di colore scuro dalla quale erano uscite due persone, quelle che poi avevano ucciso Tiffany e i suoi genitori. Ebbene, era identica all'auto dell'avvocatessa, una Lexus di colore scuro del 2010. Non è tutto, visto che avrete capito che abbiamo a che fare con dei veri geni del crimine, non vi stupirà che per terra, vicino a dove era stata parcheggiata l'auto, venne ritrovato un cappello da baseball. Fu ovviamente analizzato e i residui di DNA presente su di esso individuarono, direi incredibilmente, Barry Titus. Ascoltati sulla vicenda, sia Barry che Keegan negarono fermamente ogni loro coinvolgimento, affermando che si trovavano in Texas quel giorno. Vi erano rimasti, a detta loro, dal 6 al 10 settembre. Le parole però non poterono cancellare i fatti, ai quali si aggiunse anche un match perfetto tra un'impronta ritrovata sul prato di fronte all'abitazione dei Chandler e uno stivale appartenente a Keegan Arrows, rinvenuto durante una perquisizione. Nell'aprile del 2021, i due vennero accusati di triplice omicidio premeditato e si dichiararono non colpevoli. L'anno successivo, aprile 2022, i procuratori annunciarono che avrebbero richiesto la pena di morte per i due amanti assassini. Questo ovviamente perché in Oklahoma è prevista, ma anche per delle aggravanti, nello specifico le torture inflitte a Tiffany Eichor prima della sua morte. Ad oggi non si sa ancora quale sarà la data del processo. Le ultime news sono appunto di aprile. Si tratta dunque di un caso ancora aperto, ma visti tutti gli elementi raccolti e dei quali vi ho parlato, credo sarà molto difficile che possano saltare fuori grosse sorprese. E questo anche se Keegan Arrows si trovasse un buon avvocato dal quale magari imparare qualcosa. L'unico dubbio sarà vedere se i due verranno effettivamente condannati a morte, oppure al carcere a vita senza concessioni di sorta. E per la brutta e rocambolesca storia di oggi è tutto. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino in fondo e come al solito vi do appuntamento ai prossimi video, sperando di ritrovarvi da queste parti. Quindi, restate in zona.